Perre, 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 hanno aggiunto una nuova mappa su Ratticatti. Oh, davvero, davvero, che cos'è Steph? È un giardino giapponese. Ho il mio preferito, adoro i giardini giapponesi! Non so cosa tutto ci sarà dentro, ma sarà di sicuro epico. E ragazzi, come va? Io sono Periniki. E siamo qui prontissimi a provare la nuova mappa e anche altre cose che hanno aggiunto, perché hanno proprio fatto un nuovo aggiornamento e siamo super felici. Esattamente, allora non so cosa ci aspetta in questo giardino, non so da dove dovrò prendere il cibo, quindi facciamo, prima di tutto, un round dove esploriamo. Quindi, Fere il gatto, ma starà lì tranquilla che mi dà le carezze, giusto, Fere? Più o meno. Fere, Fere, fai da brava. Non lo so. È un round pacifico. Ok, ok. Allora, fammi vedere un pochettino. Allora, dove sei tu? Descrivi. Ah, ti vedo. Uh. Guardami. C'è subito un'auto. Girati però, guardami. Dove stai? Qua. Ah, ciao, Fere. Nella zona tavolini, qua è pieno di cibo. E quindi c'è una sorta di buffet per il cibo, Fere? Esatto, esatto, è pienissimo. Aspetta che venga a vedere, fammi capire un pochettino. Sì, praticamente ci sono dei tavoli pieno di cibo. Non ci arrivo saltando, quindi avrò bisogno di qualcosa per suolazzare. Sì, sì. Ed è pieno di cibo da rubare. Secondo me è un po' più semplice per il topo questa mappa, perché mi sembra più facile raggiungere il cibo rispetto al frigorifero. Quello sì. E poi i miei animalletti sono in una base piccola piccola. Vuoi venire a vedere la mia casetta? Sì, sì, voglio venire. È la cosa più carina del mondo, seguimi. No, ma è troppo bella. Lo so. Sono troppo gelosa, però non esiste questa cosa. È la casetta più bella di sempre, Fere. Non è più una tana nella casa, ma è proprio una casetta. Una casetta a forma di zucca, per di più. Che bellina. Troppo, troppo bellina. Una cosa voglio controllare prima di fare un round vero contro il bot. Voglio vedere se moriamo in acqua, perché questa è una cosa importante. Sì? Mi sa di sì, Consolini. Quindi non bisogna andare in acqua? Mi è rimasto un po' di dubbio, magari. No, non è vero. No, 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 ovviamente. Quindi non bisogna andare in acqua. Ok, acqua off limit. Lezione imparata, perfetto. Fere, ma dove sei? Io sono nella casetta con quattro topolini. A me ha buttato fuori ed ero qua a fianco. Ciao, Fere. Forse non ci stiamo, sai com'è. La casettina è piccola, mi sa che non ci stiamo. Può essere, può essere. Allora, siamo contro il gatto bot. Dobbiamo cercare di vincere una partita per la prima volta. E' un po' che è davvero forte e picchia, quindi mi raccomando. Prenditi una bomboletta, Fere. Ok, ok. Allora, tu lo vedi? Eh, per ora no, per ora no. Eccolo, eccolo, eccolo. E' già armato di pistola e ci vuole già sparare. E' sempre con la pistola. Allora, facciamo che io mi prendo subito la macchina e mi avvicino lì. Giulia. Mi sono già incastrato. No, 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 no. Ho cambiato idea, ho cambiato idea. Scendo, 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 scendo. Mi riprendo questa e vado a piedi. Secondo te si è da mangiare a quello super pieno e lo suami a morire il tutto. Lo spero, prova, prova. Allora, lui. Dai, ti prego. Vado. No! No, ma dai, per pochissimo non è giusto. Allora, tu suami a lui e lo completi, io suami a quello che ha più fame. Ok, perfetto. Perfetto, corri, 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 corri. Comunque è noto. Ma, scusa un attimo, il gatto è notato che rimane confinato nella stessa zona? Vero? Cioè, è l'intermo. Secondo me sta avendo qualche problemino mentale, povero gatto. No, aspetta, ora lo vedo andare verso i tavoli. Dimmi, Fere. Guarda la fame di quello. Ho notato, Fere. Ti sembra? Ho notato. Ti sembra che mi succedano queste cose? Sono abbastanza triste su questa cosa, però io devo mangiare a questo. Vado a rompere le scatole al gatto. Sì, rimane là. Ok, quindi, allora, ricordiamoci che è più difficile in casa. Ciao, gatto! Ah, ma perché qua c'è anche il tavolino migliore, Fere. Quindi stava difendendo il tavolo col cibo buono. Esatto, sta proteggendo il tavolino migliore. Ok, e io mi prendo il pollo. Allora, in questo momento sono ferito gravemente perché mi ha sparato delle uova. Il gatto. E ci credo, gli vai addosso. Non riesco ad andare molto veloce. Ok, mi sono ripreso, mi sono ripreso. Eccomi, Fere. Ok, devo dare da mangiare. Lui, tieni. Il pollo suama tantissimo, Fere. Allora bisogna... Io continuo. Lui sta proteggendo il tavolino col cibo migliore. E io infatti vado lì, Fere. Non ho paura. Oh no, mi sono appena accorto che ho quasi finito la bomboletta. Allora ho un po' di paura. Mi prendo un altro pollo e provo a scappare via velocissimo. Ok, corri, 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 corri. Dimmi che mi basta la bomboletta. Sì, ok, ok, ci sono, Fere. Ciao. Cosa facciamo? Finiamo quello? Eh, sì, vai, 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 vai. Non l'hai finito. Eh, lo so che... Vabbè, dai, lo finisco. Pazienza. Siamo a due di quattro, va bene così. Fere, guarda che bontà. Guarda che bontà questa cosa, Fere. Guarda, guarda, guarda il mio schermo. Vabbè, che bello. Secondo me Suama... Ah no, ma me ne prendi un pezzetto. Io volevo prendere tutto il piatto e andarmene. Ma come, tutto il piatto. Però un pezzetto di formaggio. Voglio vedere se Suama con un solo colpo un nostro figlioletto. Secondo me dovrebbe, perché comunque è il loro cibo preferito. Eh sì, eh sì, assolutamente. Suama con quello che comunque ha meno fame. Vediamo se ce la facciamo. Paga pochissimo. È stata una tristezza. Ma che schifezza. Ma non lo prendo più il formaggio. Me ne sono pentito subito. In ogni caso il gattino è abbastanza buggato in questa mappa. Quindi se vogliamo giocare col bot dobbiamo tornare nella nostra mappa normale. Sì, sì, purtroppo sì. E questa la faremo con Anna e Lion. In modo tale che i gatti saranno dei player veli. Perché quanto pare il bot qua va ancora sistemato un po' e non funziona bene. Eh, Fere. Dimmi. Che succede? Mi sono accorto troppo tardi che avevo finito la bomboletta, Fere. Eh, sono qua però. Mi vedi? Dove? Mi puoi rianimare. Qui, 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 Fere. Ma dai. Ciao, Fere. Mi sistemi un attimo. Che persona terribile. Grazie, Fere. Che topo terribile. Però in realtà ne approfitto per far vedere un'altra cosa che hanno aggiunto con questo aggiornamento. Allora, prima di tutto do da mangiare a quello che ha meno fame. Che magari riusciamo a suamarlo del tutto. No, no, no. Non ce l'ho fatta. Però guardate che cosa hanno aggiunto. Hanno aggiunto un sistema per curarsi. In questo modo si può tornare alla vita piena. E non morire con un solo colpo del gatto. Che è una cosa importantissima. Carina come aggiunta. Sì, sì, sì. Molto, molto carina. E poi vicino alla base. Quindi è comodissima. Quattro su quattro fatti. Ma era davvero troppo semplice. Adesso noi andiamo nella mappa normale contro il gatto bot che lì sapete quanto è forte perché ci aveva massacrato nel primo video. Esattamente sì. E proviamo a vincere con quattro su quattro. Con un piano che ho preparato. E Ferre deve aver paura. Ho preparato un piano bellissimo. Che è qui. I consolini non lo possono vedere perché c'è troppa luce. Ma tra poco lo vedranno con un'altra telecamera. Ferre non lo puoi ancora vedere. Mi spiace. Ma come? Non lo posso vedere? Prima entriamo in partita e poi spiego il piano. Ok? Ok. Devi aver paura però te lo dico. Non mi fido di te Stef. Eccoci qui Ferre. Adesso allora cambia la telecamera e i consolini vedranno il mio fantastico piano. Prima di tutto la cosa più importante ovviamente è il nome del piano. Il piano ciuffo. Il piano ciuffo. Io volevo mettere ciuff ciuffo. Però ci stava solo un ciuffo e quindi ne ho messo uno. Come funziona questo piano? Allora il primo step. Questa qua è fare guardate che bella. E rubare una macchina. Il secondo step. Questo qua sono io vedete ho gli occhiali. E prendere la scopa volante. Ovviamente sei tu eh. Quindi io dovrò avere la scopa volante. Ferre dovrà avere una macchina. E passiamo al terzo step. Io con la scopa volante vado dentro il frigo. Mi vedrete lì dentro il frigo. Lancio il cibo a Ferre che sta qua. E Ferre con diciamo con tutta la sua agilità metterà il cibo sopra il treno. Riempiremo il treno di cibo appunto preso dal frigorifero. E torneremo a casa assomando tutti i nostri figlioletti e vincendo la partita. Quando l'hai fatto sto piano stessa? Eh Ferre l'ho preparato durante la notte. Ho pensato a un piano per vincere in questo gioco perché è super difficile e secondo me può funzionare. Sei pronta? Se lo dici tu sì. Ferre che cosa hai appena usato scusami? Ascensore. Ho scoperto che abbiamo un ascensore in base. What? Vieni. Ma che figo! Ops l'ho perso vabbè. Fighissimo. Allora la mia scopa volante è appena fuori casa quindi io la mia parte l'ho già fatta Ferre. Ok io devo cercare un'auto quindi. Ti ricordi dove è la macchina? Allora io sono sopra il divano mi vedi? Sono qua in alto. Aia mi sta già tirando uova ma come ci arrivi qui sopra? Accidenti a te gattaccio guarda. Ferre veloce 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 non far fallire il piano. Su 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 su. Ok ok ok. Se la faccio a prendere il monster truck oppure no? No 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 seguimi seguimi. Mi spara mi spara. C'è la macchina molto più semplice da prendere. Ok perfetto perfetto. Nella stanza lì alla sinistra della cucina io inizio a prendere qualcosa da mangiare Ferre dall'altra. Porca miseria da questa. Ho sbagliato scusami. Vai corri. Il trenino sta facendo tutto il giro e teoricamente si sta avvicinando. Oh cavolo arriva il gatto arriva il gatto arriva il gatto. Io sto arrivando con la scopa a volante e adesso entro dentro il frigo quindi inizierò a lanciare tutto il cibo. E tutto questo a me che serve la macchina Steph? E diciamo per sopravvivere dal gatto mentre. Ah basta non ho una vera e propria attività. Mentre aspetti il trenino. Con il vesto. Ah sono caduto. Con il vesto Steph. No Ferre non è una buona idea. Guarda mentre cerca di picchiarti un livello in vesto ecco a cosa servo. Steph non lo posso investire. Lo so Ferre quello che cercavo di dirti. Steph ha fatto di cemento sto gatto. Aspetta no lo... Steph girati. Che succede? Mi si è bagato nel cofano dell'auto e me lo sto portando in giro. Portalo lontano. Portalo lontano. Ce la rifaccio. Ce la rifaccio. Ferre è arrivato il treno devi riempirlo. Mi ha distrutto la macchina. Aiuto. Aiuto. Pensa a riempire il treno. Scappo. Guarda mi sta rovinando tutto. Ferre mi sta rovinando tutto. Non è possibile. Mi ha steso Steph. Eh lo so che ti ha steso. È troppo forte sto gatto. E adesso stende anche a me. Io sinceramente non sapevo che mi potesse buttare giù dalla macchina. Ecco qua. Ecco qua. Faccio così lo prendo a calci. Via 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 via. Cadi cibo. Cadi. Ti sto buttando un sacco di pezzi di formaggio. Allora dov'è? Dov'è? Dov'è il topo? Oddio è dietro di noi accidenti. Non lo so. Dov'è il gatto semmai non il topo. Eh dove è il gatto? Mi sto confondendo perché c'è il trenino fermo e dovremmo agire ma è impossibile con questo accidente di gatto. Attenta 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 attenta. Se vuoi provo a portare via il gatto Ferre che dici? Lo distraggo vai lo distraggo. Tu inizia a caricare un po' il cibo. Aiuto. Aiuto sta ripartendo il treno. Dannazione. Abbiamo fallito. No 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 aiuto. Attenta 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 attenta. Allora io per ora mi prendo un pezzo di cibo. Ok aspetta un barattolo l'ho messo più o meno è molto in bilico infatti adesso cazzo. Eh l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto. Va bene per ora diamo da mangiare quello che abbiamo preso. Ok Fer verrà a curarti lo so lo so lo so. Vado a mangiare un attimino al piccoletto. Mi dispiace ste. Questo piano lo dovevo pensare diversamente. Dovevo pensare che il lato Ferre Niki non sarebbe stato molto bene. Ma io è colpa sua. Cioè l'ho lasci sempre dietro a me che pretendi che poi ce la faccia pure. In realtà io lo stavo distraendo. Ma non c'è un modo di stenderlo? Tipo di dargli un'ammazzata o qualcosa del genere. Stenderlo per qualche secondo. No no Ferre mi spiace. Ok almeno ti ho riportato il mito anche se il piano sta andando malissimo al momento. Malissimo ste. Allora io il cibo per terra l'ho buttato. Cioè c'è un sacco di cibo da caricare nel treno. Devi riuscire a sopravvivere. E' suonato l'antifurto Ferre sti tu lì? Sì sono io che sto. Allora sto girando in tutta la casa cercando di portarlo lontano da te e cercando di non morire. Quindi è difficilissimo. Va bene però bisogna che vuoi prendere cibo perché sono tre bassi e non riesco a salvarli tutti e tre da solo. Non potevi fare un piano più semplice. E' difficile vincere in questo gioco. E' davvero difficile. Quindi io ho preparato semplicemente un piano per vincere perché altrimenti si perde tutta la vita. Gatto 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 gatto. Ui. Aia. Aia mi ha dato un ceffone Ferre. Mi ha dato un ceffone. Mi ha dato un ceffone. Allora sto cercando di distrarlo. Sto cercando di distrarlo ma ce l'ha con te. Ce l'ha con te. Ce l'ha con te. Ce l'ha con te Ferre. Io cerco di caricare un pochettino il treno. Spero di farcela. Spero di farcela. Allora ok sei riuscito a mettere una cosa. Questa bistecca è buona. Io ho messo il latte Stef. Tantissimo nel caso. Ferre mi ha steso. Ferre scappa 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 mi ha steso. Corri via. No no no. Non ho niente. Come faccio Stef aiuto. Non lo so Ferre. Aiuto Stef. No torno in balda. E' tutto nelle tue mani. No vattene. No Stef non fa. Non fa. E' troppo forte. Io te lo dè. Poi cioè. Allora perché lui non esaurisce mai le uova. Cioè tu quando sei gatto devi andare a ricaricarti. Io non ho mai visto ricaricarsi. Ce le ha infinite lui. E' impossibile. Ferre il pieno ciuffa ha fallito. Ha fallito miseramente. E' troppo forte il gatto bot. Secondo me. Organizzati alla perfezione. Si può sconfiggere. Si. Però anche questa volta. Non ce l'abbiamo fatta. Per ragazzi. Se vi lasciate di lasciateci un bel like. E' la prima volta che avete un nostro video. Potete considerare. Di iscrivervi per non perdervi altri episodi. Ciao. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.